Cosa servirà al Brindisi di diverso in caso di ripresa del campionato? Sicuramente la vena realizzativa dei suoi, anche se pochi attaccanti, un problema che ha caratterizzato tutta la stagione finora giocata della formazione bianca-azzurra. Sono i numeri a rendere evidente questa sterilità offensiva della squadra adriatica, con sole 23 reti realizzate in 26 incontri disputati, con una media dello 0,88 reti a partita. Solo in 5 incontri il Brindisi ha superato la soglia di una sola marcatura, e di queste solo 3 hanno permesso ai Brindisini di portare a casa l'intera posta in paio. E soltanto in due circostanze, in tutta la stagione, il Brindisi è riuscito a realizzare 3 reti in una singola gara, contro Gladiator e Gravina, entrambe in trasferta. Infatti, se si analizza ancora più nel dettaglio, è tra le mura amiche che il Brindisi finora ha avuto le maggiori difficoltà, dove ha realizzato solo 9 delle 23 reti totali. Ovviamente tutto questo ha delle motivazioni ben precise, a partire dall'assenza di una prima punta di ruolo, che garantisse un numero minimo di marcature e un evidente ridimensionamento al mercato di riparazione. A garantire le maggiori marcature in questa stagione sono stati infatti Ancora e Dancora, con 5 marcature a testa. Resta ancora un'incognita invece l'arrivo di Dorato, che ha collezionato più assenze che presenze per vari motivi di natura fisica, ma nell'ultima parte della stagione, forse anche per motivazioni extracalcistiche. In caso di ripresa del campionato, ovviamente questo potrebbe essere un tema centrale decisivo per affrontare le 8 gare rimaste e centrare l'obiettivo salvezza.